Sport P. Geno Game presenta il calcio, la vera magia, passione che brucia, tra campo e tifosi, con passione calcio siamo tutti gloriosi. Benvenuti a una puntata di Passione Calcio, apriamo parlando dell'Ascoli Calcio e del momento di crisi che sta attraversando. Iniziamo ascoltando alcune opinioni partendo dal giornalista Valerio Rosa. C'è molta amarezza nel commentare questa situazione che si è creata all'Ascoli, la partita è finita da poco, è veramente molto difficile poter fare un'analisi serena perché si è visto un Ascoli decisamente poco competitivo e con tante difficoltà. È vero anche che il mister Di Carlo è stato sfortunato perché il suo Ascoli ha incontrato le due squadre in questo momento più in forma, più forti, come il Pescara e la Ternana. Però è anche vero che pure lui ci sta mettendo del suo perché oggi la squadra è schierata con quattro giocatori offensivi, costretti a fare solamente lavoro di copertura. Mi riferisco a Marsura, a Duffizi, a Tremolada e allo stesso Corazza che poveretto è lì davanti da solo, non la tocca mai. Io credo che veramente anche il bomber si stia un po' chiedendo ma chi me l'ha fatto fare ad accettare di venire ad Ascoli. Poi con freddezza ha realizzato il gol sul rigore all'ultimo minuto ma ciò non toglie che è stata un'amara soddisfazione personale perché sul 3-0 c'era veramente poco da esultare. Era un Ascoli troppo arrendevole, troppo rinunciatario, con pochissima qualità a centrocampo, con Bertini, con Campagna, con lo stesso Varone oggi in grosse difficoltà. Serviva un Ascoli probabilmente più quadrato, più organizzato per cercare di portare via un pareggio e invece giocare con uno schema offensivo come il 4-2-3-1 e poi giocare tutti dietro a difendere. Secondo me anche il tecnico Di Carlo deve un attimo chiarirsi un po' l'idea di cosa vuol fare perché se vuol giocare offensivo deve andare a giocare nella metà campo avversaria e non fare una partita tutti dietro e palla lunga a cercare le ripartenze. Ci mancano gli uomini sulle fasce perché né a Giacomo né a Cozzoli sono riusciti a essere competitivi e anche lo stesso portiere ha fatto degli errori. Io ho fatto veramente fatica a trovare una sufficienza in questo Ascoli, nelle pagelle che ho fatto per il resto del Carlino. Mi pare davvero molto complicato poter in questo momento dire che l'Ascoli riuscirà a tirarsi fuori con le sue forze. Il patron all'intervallo ha parlato ancora di playoff ma secondo me sta vedendo una squadra che non è quella reale perché l'Ascoli è in grosse difficoltà, la terza sconfitta consecutiva, non vinciamo dalla partita contro i ragazzetti del Milan Futuro e domenica arriva il Perugia dove sarà una partita altrettanto delicata. Io spero che anche l'allenatore dia un'occhiata agli uomini che ha e schiedi un Ascoli più compatto, più aggressivo è vero che il materiale umano è quello che è, però insomma in questo momento c'è tanta tanta amarezza. Proseguiamo la puntata ascoltando l'opinione del giornalista Alessandro Manocchi. Tre allenatori è una squadra senza grinta, senza gioco. Purtroppo io penso che il problema sia a livello psicologico, cioè Di Carlo dovrà lavorare secondo me proprio a livello psicologico perché è una squadra che andando a snocciolare i nomi ci sono degli elementi che potrebbero benissimo giocare in Serie B. Vedi Corazza, vedi Varone, vedi Tremolata, vedi Marsura, Duffizi, tutti ottimi giocatori. Io credo che purtroppo Di Carlo dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori perché se con il Pescara, anche se purtroppo è arrivata la sconfitta, qualcosa si era visto sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista anche della grinta, della cattiveria, della voglia. Purtroppo a Terni l'Ascoli è durata mezz'ora dove infatti la Ternana ha fatto il primo tiro attorno alla mezz'ora del primo tempo. A livello difensivo l'Ascoli aveva retto abbastanza. Poi dopo purtroppo, all'inizio del secondo tempo, preso il gol, la squadra si è sciolta proprio come neve al sole, non ha proposto una reazione e poi sono arrivati il 2-3-0. Era una punizione pesante. Sicuramente la Ternana vista a Liberati, domenica, è una delle squadre più accreditate per vincere il campionato. Però un Ascoli con quell'atteggiamento così arrendevole, così privo di mordente, di grinta, io credo sia proprio dal punto di vista mentale che la squadra deve essere risollevata e su questo dovrà lavorare Di Carlo. Poi adesso arriva un'altra partita importante contro il Perugia. Al Del Duca io sono dell'avviso che una vittoria potrebbe dare la svolta a questo campionato. L'Ascoli nelle ultime quattro partite ha fatto un punto in virtù del pareggio ottenuto a Carpi e tre sconfitte consecutive. Quindi io penso che mai come in questa situazione una vittoria potrebbe essere davvero la medicina ideale per dare una svolta a questo campionato. Perché, ripeto, per me la squadra presa nei singoli è da playoff assolutamente. Purtroppo siamo più vicini ai play-out che ai play-off. Siamo a puntata ascoltando il tifoso Federico. L'Ascoli dopo aver cambiato tre allenatori non trova più la strada della vittoria. Il problema secondo me non sono gli allenatori, il problema è la società. Lo diciamo ormai da troppo tempo, da quel famoso 10 maggio 2024, dove l'Ascoli è retrocessa in Serie C. La verità è che questa società non è capace di gestire una società di squadra di calcio. Perché c'è stata una preparazione fatta a malo modo, con giocatori scollati tra di loro, con i reparti completamente senza senso. Non abbiamo una difesa, ma non abbiamo una difesa sia da quando abbiamo iniziato a fare le amichevoli quest'estate. Se ricordiamo che l'Ascoli comunque negli amichevoli non ha brillato. Quindi era lì già a campanello dell'allarme dove bisognava andare sul mercato più decisi. Abbiamo un direttore sportivo che non ha mai fatto il direttore sportivo. Che dire, preparazione fatta con Mr. Carrera, che non è stato mai allenatore, anzi, tra virgolette è l'ultimo di baluardi che ci ha fatto retrocedere in Serie C. Adesso che abbiamo un vero allenatore che è Di Carlo, è arrivato da pochissimi giorni, con questa squadra non penso che l'Ascoli abbia futuro. Molto probabilmente, mi dispiace dirlo, io personalmente aspetto il fallimento di questa azienda, come la chiama il padron Puccinelli, la sua azienda. Proseguiamo la puntata parlando del calcio femminile e dell'inizio del campionato di eccellenza Marche, ascoltando l'intervento della giornalista Chiera Poli sulla prima giornata della San Benettese Calcio. Inizio entusiasmante per le ragazze rosso-blu guidate da Mr. Silvestro Pompei, che nella prima uscita stagionale in casa, nel campo di Petrella di Ripa Transone, vincono per ben otto reti a due contro la San Giustese. Ora le ragazze sono attese per la seconda difficilissima partita contro l'Ancona Respet, nel campionato femminile di eccellenza Marchigiano, sperando di riottenere i risultati degli anni precedenti, in cui le San Benedetti si hanno dominato i campionati, riuscendo anche a raggiungere la Serie C. Siamo con Alessandra Ferretti, difensore centrale, che purtroppo oggi non ha giocato per un lungo e importuno da cui sta recuperando. Prima partita, prima vittoria. Come vedi questa squadra e questo campionato? Allora, la squadra ha giocato molto bene, nonostante i nuovi innesti, la squadra si trova molto bene nel gioco. Queste new entry, diciamo, si sono integrate bene alla squadra, sia nel campo che fuori. Questo campionato, secondo me, è molto interessante. Ci sono moltissime squadre, diciamo che sarà molto più competitivo rispetto all'altro e speriamo di divertirci. Quest'anno ci sono 14 squadre, molte di più rispetto allo scorso anno. Diciamo che quelle favorite comunque rimangono sempre la Ricana Tese, l'Ancona, ma anche la San Benedetti. Sì, certo. Anche l'anno scorso è stata una battaglia, ma diciamo che questo ci motiva molto a dare il 100% a ognuna di noi. E appunto, proprio perché è più combattuta, è anche molto più divertente e molto più soddisfacente vincere. L'azione calcio termina qui e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un like, se ritenete che dobbiamo proseguire mettete un like. e seguiteci sui nostri social. Sparpice No Game Ha presentato il calcio La vera magia Passione che brucia tra campo e tifosi Con passione e calcio Siamo tutti gloriosi La vera magia Grazie a tutti.